Come va? E bentornati sul mio canale prima di iniziare il video. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale di YouTube e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Oggi vi do 4 o 5 notizie, adesso vediamo, dipende da quanto diventa lungo questo video. Partiamo subito con il fatto che è in arrivo il portale unico dell'Inps con tutte le agevolazioni a disposizione su internet. Infatti con il messaggio numero 1263 l'Inps presenta il nuovo sito internet voluto proprio dal PNRR che punta alla digitalizzazione dei servizi per la pubblica amministrazione e l'Inps è proprio uno di questi. Dal nuovo sito internet si potranno vedere tutte le domande per il bonus alle famiglie come per esempio l'assegno unico, il bonus asilo nidio e anche infine l'ISEE pre compilato. Infatti dal 18 di marzo il servizio è accessibile sia da pc che da smartphone o tablet e dà la possibilità non solo di presentare domande ma anche di avere informazioni suggerimenti e notizie e inoltre è possibile anche consultare lo stato delle domande inviate. Tramite il nuovo servizio quindi si può vedere il bonus asilo nido, l'assegno temporaneo per i figli minori quindi attenzione assegno temporaneo quello vecchio, assegno di natalità bonus bebè o bonus babysitter e centri estivi. Pensioni e naspi con arretrati ai condannati per mafia e terrorismo. I condannati con sentenza passata ingiudicato per terrorismo e mafia in una situazione di detenzione alternativa al carcere quindi avremo i domiciliari, i servizi sociali eccetera eccetera hanno diritto a riavere la Naspi, la pensione sociale o quella di disabilità. Lo ha reso noto proprio l'Inps sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato praticamente illegittimo l'articolo della legge del 2012, il numero 92, che prevedeva la revoca delle prestazioni a fronte di condanne per mafia e terrorismo. Bonus Renzi me lo chiedete in tanti quando arriva l'accredito da parte dell'Inps? Dopo la pubblicazione della legge del 30 dicembre del 2021 pubblicata in gazzetta ufficiale si è dovuto dire addio al vecchio bonus IRPEF da 100 euro. Con la nuova legge di bilancio del 2022 il governo ha praticamente modificato tutti i requisiti per ricevere il bonus IRPEF o bonus Renzi, chiamatelo come volete, nel 2022. Ora però vediamo quando arriva il pagamento. È solito i pagamenti iniziano nella prima parte del mese con la Naspi e poi dalla seconda parte del mese ci sono i pagamenti del bonus IRPEF 100 euro. Quindi il bonus Renzi ha iniziato a essere pagato a partire dal 15 di marzo e comunque continuerà ad essere pagato anche nei prossimi giorni. Bonus occhiali da 50 euro in arrivo finalmente una buona notizia. Il bonus occhiali da vista è un aiuto economico che serve per acquistare le lenti a contatto oppure gli occhiali da vista su una montatura ovviamente anche le lenti senza la montatura non possono stare in piedi e consiste in uno sconto di 50 euro che si può richiedere per ogni persona. Come vi ho detto questo appunto è uno sconto di 50 euro che bisognerà poi anche dichiarare nella dichiarazione dei redditi, modello unico redditi o modello 730, dipende da quello che fate, proprio nella voce spese mediche così da avere anche la detrazione dalle tasse del 19% purché al netto della franchigia di 129,11 euro. Se vuoi richiedere il bonus da 50 euro dovrai prima compilare l'ISEE mentre per quanto invece riguarda la detrazione dalle tasse del 19% devi sapere che non serve nessun ISEE. Bene con questo è tutto ti ringrazio per avermi guardato ti ricordo di iscriverti al mio canale di youtube qui sotto e di attivare anche la campanellina così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità. Ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube. Ti aspetto, ciao! Ciao!